Eccoci ancora insieme venerdì 24 di giugno per leggere le pagine sportive dei nostri quotidiani regionali. Santo Padre indagato, grifo no, anche nello sport ovviamente si torna a parlare dell'inchiesta della finanza. Dopo la bomba dell'avviso di garanzia al Presidente e il blitz della finanza, dalla Procura di Rieti notizie per ora rassicuranti. E la difesa del patron, fatture vere e mai prestanome, dichiarazioni sempre fatte, lo racconta, come vedete, in ampio modo il messaggero dell'Umbria. Nel Perugia tutto a regola d'arte ma fiato sospeso per l'iscrizione. E poi per il Corriere dell'Umbria, finanza al Curi Santo Padre dice, eccolo qua, grifo andiamo in serie A. Il numero uno del club è fatto tutto a regola d'arte, il Perugia non c'entra, sono scomodo, non mi siedo a certi tavoli, vedremo fra 12 mesi. Marce indietro Juve, Ios e Vitali rientrano, questo per il mercato. Filipe Gomez verso l'addio, è pronto l'accordo tra il centrocampista brasiliano e il Padova. Si aprono possibili sviluppi nella trattativa per l'attaccante Donnarumma, che resta sempre in cima alla lista dei desideri. Dopo il no di Fossati, continua il pressing su Brighi in uscita dal Bologna. L'accusa, torniamo al caso giudiziario, fatture false da 90 milioni per la squadra di calci. Il press nel registro degli indagati e nella procura di Rieti. E invece per lo sport, Ferri stand by, il caso Bollini fa saltare tutto. Torna in pista, tornano in pista gli altri tecnici contattati. Gautieri, D'Averza, Gregucci, Menichini e Spunta De Canio. E ancora, Gubbio, Di Maio verso l'addio. Sì, Maxi è offerta da Matelica. Derby col Teramo per gli Atalantini, Parigi e Ranieri. Intanto Teresco consiglia i baby palermitani e la squadra di Magi. Il difensore dice, vorrei restare, ma il DS Marchigiano Dolce non c'è ancora l'accordo. E poi, per quanto riguarda le giovanili, Oratorio Don Bosco, Farnetti e Pauselli a Zingonia per un profico provino. Foligno, Guazzolini era ufficiale e Sfrappa super a Ceccagnoli. Fatta per il tecnico, come uomo mercato, avanza l'ipotesi dell'ex direttore sportivo dell'Ancona. Questo per quanto riguarda il calcio, Russell e così andiamo al volley. Sfida all'Italia e ai compagni della Sir. La società sta facendo grandi cose, non vedo l'ora di cominciare. Lo schiacciatore americano, statunitense esattamente, domenica affronta gli azzurri nella World League e guarda le Olimpiadi. Applausi ai nuovi campioni regionali di Fossa Olimpica, con questa andiamo a Massa Martana. E poi da Gubbio il Mondiale di Automodellismo sarà a Gubbio sul circuito Rosati dal 4 al 14 di agosto. Domani e domenica antipasto con le qualifiche. E poi, per l'inserto sportivo della nazione, santo padre indagato, l'iscrizione del Perugia a rischio perquisizioni e sequestri. Il presidente dice, do fastidio, chi vuole il club me lo dica. Scusate, stiamo leggendo le pagine sportive del nuovo Corriere Nazionale. Ho sempre presentato le dichiarazioni fiscali, questo nel comunicato, poi come vedete la conferenza stampa. L'ipotesi accusatoria, fatturazioni false. Spero che la gente continui a credere in me. Rilancia, santo padre. Non è un caso se accade tutto, ora che dobbiamo iscriverci. Il motivo? La visibilità, non ho mai voluto sedere a certi tavoli. E poi per il mercato. Sondato Galabinov, il bulgaro risentito, vantaggiato. Fere, una campagna fantasma. Ternana ancora senza di esse tecnico, ma scattano gli abbonamenti. E poi Gubbio, stallo con Roma e Juventus. Il Gubbio adesso vira sull'Atalanta. Lega Pro, collaborazione con gli Orobici. E il Chievo a fretta. Nember, uomo mercato del club veronese. Se il rosso-blu vogliono i nostri giovani, devono sbrigarsi. I sou e costa troppo. Foligno a Guazzolini, strappa, direttore sportivo. Ad Amelia, gran fondo per il ciclismo in 400 sui colli a Merini. E allora andiamo all'inserto sportivo, questa volta davvero della nazione regionale. Il grifo si alleggerisce. Filipe va. Il Padova spinge per avere il centrocampista. Ios resta, ma richiesto, dall'estero. In Trentino, nuova visita al ritiro bianco-rosso. E poi l'evento Mercato Insieme, grandi ospiti a Balanzano. Rivoluzioni in rosa per la grifo Perugia di Valentina Roscini. Serie B, campagne abbonamenti senza panchina in casa della Ternana. Missaglia, Lascia Castello, il mercato dei dilettanti. Foligno, Guazzolini è fatta, ha trovato l'accordo con il tecnico. Città di Castello, Giolli guida i giovani. E per quanto riguarda il basket di A1, Acqua e Sapone, Umberti, Rebume di rinnovi. Volle, Imonini, Spoleto, al completo preso Marta. E allora concludiamo, come sempre, leggendo la prima pagina del Corriere dello Sport. Preso in giro, Lippi, clamorosa, rinuncia con una telefonata a Tavecchio. Dice no al ritorno in FIGC come DT e dice non voglio che paghi mio figlio. La Padula al Milan, blitz rosso-nero sull'attaccante del Pescara, beffata Napoli e Juventus, pagato 10 milioni. Oggi farà le visite mediche, quattro anni di contratte. Poi invece per gli europei, giochiamo Italia-Spagna, come se fosse un thriller. Tre giorni alla sfida di Parigi che decide il nostro europeo, gli intrighi, il piano, i pericoli, retroscena. 72 ore da film. E poi ancora il Napoli va su immobile per Higuain che contratto. Pjanic si lancia, Juve voglio vincere tutto. Inter c'è Witzel se Yaya Toure chiede troppo. È davvero tutto per questo venerdì 24 di giugno. Vi ringrazio per averci scelto, vi lascio con le repliche di questa rassegna stampa. trgmedia.it il nostro sito è per seguirci in streaming o per essere informati in tempo reale. Grazie, vi ricordo che poi l'informazione torna questa sera a partire dalle ore 19. a partire dalle ore 19.